Oggi vi porto a Santa Maddalena e quindi devo spiegarvi dove siamo e che cos'è il Santa Maddalena. Allora, il Santa Maddalena è uno dei vini rossi più tradizionali dell'Alto Adige. La zona di produzione è a nord-est, est-nord-est di Bolzano e oltre alla collina di Santa Maddalena che dà il nome al vino, ci sono altri quattro Grand Cru, potremmo dire, che sono Santa Giustina, San Pietro, Coste e Rencio e sono proprio come se fossero dei Grand Cru del Santa Maddalena che in queste zone prende la denominazione di Santa Maddalena Classico. Come si fa il Santa Maddalena? Si fa essenzialmente con la schiava, che è un'uva molto tipica di quelle zone lì, la fernacch detta anche, che è declinata in tre sottotipologie, che sono la schiava grossa, la schiava gentile e la schiava grigia. Poi un pizzico di Lagrain, altro vitigno tipico di quelle zone, che dà colore e dà un pochino di profondità ai vini di Santa Maddalena. Ora, qui ne abbiamo due, abbiamo due Santa Maddalena del 2019 e vediamo quali sono. Il primo è il Santa Maddalena Classico 2019 di Larkerhof, prodotto appunto con uve schiava per il 90-95% e poco più o meno il 5% di Lagrain. È soltanto vinificato in acciaio, quindi non legno, 2019 è un'annata molto positiva per queste zone e proviamo a vedere com'è. Il colore è un colore rubino luminoso, non particolarmente intenso, non troppo concentrato, ma questo è un po' la caratteristica della schiava. I profumi, i profumi sono molto fruttati con note di melograno, di viola, piccoli frutti in genere e anche leggermente di mandorla fresca, che è una delle caratteristiche proprio salienti, potremmo dire, di profilo olfattivo dei Santa Maddalena. Proviamo ad assaggiarlo. Un vino piacevolissimo, da servire tra i 14 e i 16 gradi, quindi fresco di cantina, che è molto eclettico negli abbinamenti, non troppa acidità, piuttosto composto dal punto di vista gustativo, ma soprattutto molto gentile, molto piacevole e molto adatto ad abbinare ad esempio i salumi locali, come lo Speck, che è il salume per eccellenza dell'Alto Adige, ma anche i primi piatti delle cucine regionali di mezza Italia. Quindi un vino veramente da bere in tanti momenti, anche quando fuori fa un po' caldo e uno berrebbe soprattutto dei bianchi, perché questo vino qui è un vino che si abbina bene e regge bene anche dei calori esterni abbastanza evidenti, quelli estivi, perché non è pesante. Il secondo è prodotto da un'azienda che è storica nell'Alto Adige, che è Maloyer Gummerhof, ed è il Santa Maddalena Classico Loamer del 2019. Andiamo a vedere com'è. E vedete che il colore è abbastanza simile, forse leggermente più granato rispetto al primo, ma sempre molto luminoso, molto bello da vedere, non troppo concentrato, non troppo intenso, proprio perché deve essere così, sempre 2019. Proviamo a sentire i profumi. I profumi sono dei profumi fragranti, dei profumi anche un po' di fermentazione, se vogliamo, che ricordano la fermentazione, i profumi classici di mandorla sicuramente, degli accenni leggermente affumicati, proprio che ricordano le molecole che si formano durante la fermentazione e durante l'affinamento, perché questo vino è affinato solo in acciaio, quindi in una situazione dove l'ossigeno non prende granché parte all'evoluzione del vino. Proviamo ad assaggiare. Anche questo piacevolissimo, molto salino, con un corpo medio, ovviamente, ma di grande bevibilità. È un po', come dire, nel segno dei tempi, perché oggi come oggi la bevibilità è uno degli aspetti più salienti della piacevolezza di un vino. E questo, lo Hammer di Maloyer Gummerhof, è uno dei migliori esempi che possiamo trovare.